Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale Oggi ragazzi come potete ben vedere siamo di nuovo qui su SnowRunner Ragazzi l'ultima volta ci eravamo lasciati con la consegna di queste diciamo missioni secondarie Ieri Con qualche piccola difficoltà direi Non so se avete visto la puntata se non l'avete vista comunque ve la lascio nei consigliati E niente ragazzi oggi facciamo ancora un pochettino di missione Perché voglio prendere un po' di soldi voglio guadagnare un po' di soldi E voglio sbloccare ancora un pezzettino di mappa Per fare ciò ho trovato una missione che ora vi faccio vedere che non faremo col camion Infatti facciamo con questo camion qua recupera così ce lo portiamo tranquillamente qui E poi ci prendiamo la nostra bellissima Chevrolet che sta qua Prendiamola Ok e con questa Chevrolet ragazzi guardate cosa facciamo Allora questa missione qua che si chiama pescatore sfortunato Ci chiede di prendere la sua Chevrolet Che è uguale alla nostra Chevrolet Impantanata qui nella palude E trasportarla alla casa appunto del pescatore Per fare ciò io non farei recupera Cioè potrei fare anche recupera E farmi tutta sta strada qui Sì facciamo recupera perché questa strada forse è un po' troppo impervia Allora ci facciamo recupera Passiamo dalla diga Poi passiamo di qua Prendiamo ovviamente il potenziamento Nel passare di qui io salirei E vediamo se poi bisogna scendere di qui Vediamo come facciamo a passare di qua comunque Quindi iniziamo Non so se bisogna accettarla Penso che bisogna accettarla qui La missione Potremo anche andare un attimo a accettarla e poi andare a prendere Vediamo adesso cosa fare Comunque vediamo che succede raga Iniziamo intanto a partire In questa nuova missione Dai è così Ah bellissimo raga Rincominciamo una nuova bella missione Con il nostro bellissimo snow runner Ok siamo arrivati al punto un po' più delicatino Metterai il 4x4 E ce ne giriamo di qua Perfetto raga Ah che bello Sto pick up veramente mi da grandi soddisfazioni E pensare che i primi episodi non mi piaceva Lo trovavo veramente Un pick up quasi inutile direi Ma una volta ragazzi Modificato di motore Modificato di ruote Modificato di tutte ste robe qua E' veramente un bel camion L'unica pecca sinceramente C'è poca benzina Poco carburante La capacità del serbatoio E' poca L'unica pecca è quella Però ovviamente Ogni auto Ogni camion di questo gioco Ovviamente deve avere i suoi pregi E i suoi difetti Sennò non sarebbe neanche coerente Ok Vedo Tutto aperto mi sembra Ok Bene Mi sembra tutto tranquillo Tutto aperto Qua le sbarre sono aperte Ok Meglio così Qua siamo sulla diga Siamo sulla diga Qui facciamo Ole Ok raga C'è qualcosa Oh no Che noia Cosa sarebbe Ponte di smithville scoperto Ma io ce la farò comunque ad andare Vediamo Mettiamo Cambio Lento 4x4 Vediamo se riusciamo A passare Per il momento di qui Perché poi ora Vediamo Poi lo farò Più avanti Dai che si è andato a imbrogliare Su sto cavolo di robo Più avanti lo facciamo raga Prima voglio fare quella missione lì Sperando di farcela Questo è sempre un po' un problema Ok ok Meno male che c'era quel cavolo di robo lì Vai e così Ok Marcia alta raga Meno male che siamo col pick up Ora marcia automatica di nuovo E Dove devo andare? Mi son perso raga Aspettate un attimo Ah ok Dobbiamo salire ancora un attimo Da questa strada di Qua credo Questa che c'è di qua Eccolo lì Casa del pescatore dovrebbe essere Vediamo se si può accettare la missione Mostra in carico Pescatore sfortunato Accetta Ci paga anche abbastanza bene 1850 Ok Pescatore sfortunato Inizia la traccia Consegna alla casa del pescatore La Chevrolet Ok Noi ce ne scendiamo Ovviamente da questa strada di Qua Questa è la strada Oh Meglio mettere il cambio alto Secondo me ci troviamo meglio Perché come avevo detto nella scorsa puntata Il cambio alto è quello che mantiene i giri Da quello che ho capito raga E poi Non so se realmente è così Però da quello che ho capito Mantiene i giri Alti nel motore Comunque Cioè fissi Più che alti Fissi Vedete Come riusciamo a passare Abbastanza Oh oh Piano Piano Ok Vedete Siamo passati in un attimo Si che comunque era anche abbastanza bassa La L'acqua lì Però comunque ce l'abbiamo fatta Ora vi faccio vedere anche qua In questa pozza Guardate Non perde un colpo Guardate Guardate Come si districa bene dal fango Perfetto Piove pure Quindi immagino che la terra sarà ancora più Bella pregna di acqua Ah Quello che ci vuole Per andare a fare un bel recupero Ne Oh mamma mia E Di qua Si che stiamo andando a sbloccare il potenziamento In realtà Vedete Vedete come si districa Si Si Infanga un attimino Però poi Si riesce comunque in ogni caso a districare Meglio però spostarci Perché qui forse è un po' troppo Alto Vedete Cioè Fossimo stati con un'altra marcia Probabilmente ci saremmo Belli che impantanati Ok E AVD installabile Bene Per quale macchina Ah il white star Ok Quello che dovremmo poi sbloccare Il camion che dovremmo sbloccare Ok però almeno ce l'abbiamo già Questo è già un passo avanti Ok Ora andiamo a prendere La macchina Praticamente Ritorniamo indietro Credo Proverei raga Come avevo detto prima Però non so se effettivamente Riusciamo Andiamo fino alla punta di qui E poi credo che ci infiliamo di qui Penso sia la strada più corta Proviamo raga Proviamo Se si vede che è infattibile Com'è la distanza da qui a lì Penso sia abbastanza infattibile Perché è alta Perché è alta l'acqua Come penso che sia Però forse è di lì Se è di lì Forse potremmo farcela Se è lì Vediamo raga Forse l'hanno fatta apposta Per non fare tutto il giro Boh Non saprei Proviamo Dai Senza impantanarti Con la marcia alta Un po' di verricello Ce l'avrebbe fatta comunque anche senza Oh 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 Devo girare di qua Devo girare di qua Di qua di qua Oh raga No 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 raga Porca miseria Non me ne ero accorto Che l'acqua era alta No Ora la corrente ci porterà Chissà dove No Eh Il livello è alto Ovviamente Non abbiamo neanche nulla Chissà se l'acqua ci porta Verso in là Vediamo Proviamo No raga Di poco Guardate La riva è lì E io c'ho la macchina in panna Non posso far nulla No Peccato Veramente Però vediamo qua se Oh ce la fa Lo prende Ditemi di si Raga Siamo Fuori dall'acqua Se noi facciamo Proviamo a fare Tutto Ok raga Vediamo se Vediamo se ce la facciamo Ce la stiamo a fare Raga Non so come Ti prego Non ti rompere Ce l'abbiamo fatta Raga Ce l'abbiamo fatta Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ce l'abbiamo fatta Trasportati dalla corrente Per arrivare al pick up No non ci credo Non ci credo Non ci credo Veramente Agganciamolo Eh L'acqua ha danneggiato il camion Vai di H Non ce la fa L- Y Non ce la fa Raga Da se non ce la fa Proviamo così Più che altro Non mi voglio Incagliare Anch'io Vediamo Motore in panne Niente mi sono incagliato Anch'io raga Meglio mettere Un po' di Verricello Va Ok Oh 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 Mi metto qua sul battuto Ok Agganciamolo E vediamo adesso Di tirarlo Verso la strada Via così Via così Tira Tira Vediamo se lo sta tirando Sì che se lo tira Dai Dai che ce la fa E che sendo che il motore È rotto Fa anche più fatica Dai Dai che ce la fai Forza Forza Olè Dai che ce la fai Oh avvio del motore Motore fuori uso Eh vabbè Abbiamo anche il motore fuori uso Anche noi eh Ce l'abbiamo abbastanza rotto Sto motore Vediamo Motore fuori uso Cerca di avviarsi Ma non ce la fa Dobbiamo salire da sta collinetta Raga Eh però non ce la fa Perché la macchina Non collabora ovviamente Proviamo a prenderlo Un po' più di qua Ok No 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 ti prego vai Proviamo a fare così e così Blocco del differenziale Che qua siamo parecchio in salita Dovrebbe tirarlo di più col blocco Dai Ok Ok verso in là Vediamo se ce la fa Dai tira Tira Olè ragazzi Ce la stiamo facendo eh Dobbiamo mettere la marcia alta Che mantiene i giri un po' più altini Ok Fatemi capire dove siamo qua Perché non lo sto capendo Ok dobbiamo girare verso in qua Per andare Verso la cava E poi dalla cava Girare tutto in così Ok andiamo verso in qua Raga Raga Dai Vai col blocco del differenziale Ah ci siamo andati a impelagare In una stradetta Veramente stupida Dai Che non ho voglia di Mettere Ok 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 Ce la stiamo facendo Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta O meglio Ce la sta facendo Dai Tira Tira No No raga Accidenti Carburante esaurito E beh te credo Accidentaccio Accidenti Accidenti Devo per forza fare recupera Ma secondo me diciamo che non ce la faceva anche perché era rotto Consumava troppo carburante E non ce la faceva raga Non ce proprio non riusciva a tenere il ritmo Proprio per niente Niente dai ci vediamo di nuovo lì dalla macchina va Ok raga Ci ho messo un po' Ma ci sono arrivato Sono tornato Ora in teoria il carburante dovrebbe bastarci E in teoria dovrebbe bastarci tutto per arrivare fino alla casa del pescatore Devo passare di qui Di qui Ok la strada l'ho capita Il problema è che devo Non so come dire Farlo scollinare sto pick up da qua Ed è un bel problemino Proviamo a vedere cosa ne esce Allora mettiamoci qui In cima alla collinetta Poi facciamo così Facciamo così Agganciamolo E iniziamo a tirare E via raga Tiriamo Tiriamo Oh 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 Ecco vedete Ora facciamo così Vediamo se riesce a tirarselo Ole vediamo se riesce a tirarselo Non riesce proprio a tirarselo Non va più su E' quello il problema Eccolo la Ok proviamo a mettere allora a questo punto Blocco del differenziale Vediamo se così se lo tira meglio Vediamo Basso meno Ok 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 ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta raga Ce l'ha fatta Ole Ora andiamo di qui Andiamo di qui Intanto iniziamo a tirarcelo Col vericello Ok Perfetto Ora dobbiamo passare Tutta la cava E andarcene da quel lato di là Oh piano piano Dai ragazzi La stiamo facendo Passando Oh Gli abbiamo fatto danno Gli abbiamo fatto danno Speriamo non ci diano Dei Delle multe Lì Dei Oh 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 Piano Piano Oh Qua deve essere Mo' in pendenza Qui eh Inizia a diventare Un po' complicato Non andartene giù Non andartene giù Ti prego No no raga No 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 Qui non mi sta piacendo Sta roba eh Sta roba Ma non mi sta piacendo Niente Fatemelo Devo Devo riadrizzare Il Il pick up Se no qui Non ne usciamo vivi Fatemi Radrizzare il pick up Da qua Ok Ora Inizio a tirare E tolgo il freno Ok raga Ok ok Ando se ne sta andando Mo' Ok Poi sta venendo buio Non ci sto capendo niente Neanche Oh che ansia raga Che ansia Oh 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 Piano Di qua Fermo qui Facciamo Attacchi qui Ok E ora inizia a tirare Tira 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 Devo farlo scollinare Però da ste rocce E mo' Come faccio Eh raga Niente Devo girare di qua Dai Oh che ansia Che ansia Che ansia Che ho Che ansia Ando se ne sta andando Ando se ne sta andando No raga Mi sto a sentire male Mi sto a sentire male Ok No raga Sto malissimo Sto malissimo Veramente E ora come mi rialzo io qui Io lo so che ci cappottiamo raga Lo so No 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 Se ne è andato giù Si è bloccato però Cioè ha riuscito a recuperare l'auto Ma non a ribaltarsi No Dove sta andando Oh 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 Eccolo qui Eccolo qui raga Eccolo qui Eccolo qui Bellissimo proprio Bel recupero raga Proprio il più bello Che abbiamo mai fatto Maledizione Guarda Mai vista una roba del genere Ora Senza fare troppe Cose strane Io giro tutto di qui Ok E proviamo a sto punto A risalire di nuovo Perché se si era impantanato Cerchiamo di risalire di nuovo Vai Tutta marcia alta Vai così Vai così Piano ovviamente Al camion dietro Alla macchina voglio dire Dietro Ok Cerchiamo di risalire da sta cava qua Che veramente Non mi aspettavo Era così Infame eh Devo dire Non mi aspettavo Ok Da che eravamo lassù raga A che siamo qua giù Cioè siamo scesi di due livelli Cadendo Però devo dire Che non si è fatto neanche troppo male Il mio Il mio camion Il mio camion Voglio dire il mio pick up Il che È buono Ora qui facciamo Una bella inversione Così Sperando che Non mi capotto Raga Io giuro Io giuro Oh raga Forse ce l'abbiamo fatta Forse ce l'abbiamo fatta Ma vediamo sto pezzo Di nuovo Raga Piano È che non ho neanche punti riparazione Quindi non posso neanche riparare il pick up Se no lo riparerei Ma non Oh si Aspettate Perché mi sembra che ho fatto No forse li ho Raga Forse li ho Aspettate Così almeno magari mi aiuta un po' Questo è il punto più delicato Raga Devo tenermi Super vicino l'auto Come se fosse un tutt'uno Ok Ha fatto anche avvio del motore Si è avviato Si è avviato raga Ora mi devo tenere bene 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 Di qua Sperando di farcela Ok Piano Teniamoci bene di qui Fuori dalla strada Benissimo Come se fosse un camion Col semi rimorchio Perfetto Oh ragazzi Ce l'abbiamo fatta Un'ora Un'ora vi giuro Un'ora di gameplay Per tirare fuori Sta macchina Simpatico però dai Mi piace sto gameplay Che abbiamo fatto Strano rispetto agli altri Non mi ero ancora mai Cappottato Non ero ancora mai Volato da nessuna parte E ci sta Sempre la prima volta C'è C'è sempre la prima volta Per tutto Possiamo dire che anche In questa serie Ci siamo cappottati Ok Ok Perfetto Finalmente Riusciamo a portargli Il Oh 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 Mi va in conflitto La La roba qua Perfetto Perfetto Possiamo collegarci Alla cava Poi se dovessimo mai fare Qualsiasi altra cosa Non so Ecco qua Ponte di Smithville Assi di legno Per due Le assi di legno Le devo prendere Alla Segheria Però la segheria Non l'abbiamo ancora scoperta Ah è qua Oppure qua c'è un pianale Qua c'è un pianale Oppure Qui subito dopo C'è un pianale Passando qua dal magazzino Si fa tutta sta strada C'è il pianale Ok Andiamo a prendere il pianale Qua allora Allora Facciamo Cambia camion Flillstar Eccolo qua Andiamo a prenderci quel pianale Che penso sia già carico di roba Scusate ragazzi Avevo spostato la videocamera Ora l'ho rimessa bene Ok Andiamoci a prendere il pianale Di roba E E niente Una volta preso Andiamo a metterlo Nel ponte Ok Qua siamo arrivati Al punto qui Io devo andare Ehm Vado a prendere il pianale Che si trova qui Se non mi ricordo male Ok raga Iniziamo Il nostro viaggio Con il nostro Flillstar E poi Nella prossima puntata Ragazzi Ve lo dico Esplorazione Perché voglio assolutamente Andare a trovare Il nuovo camion Il white star Voglio assolutamente Andarlo a trovare Quindi Quindi prossima missione Flillstar Eh scusate Flillstar White star Ok raga Eccoci al ponte Accettiamo Un secondino La missione Senza andare Troppo nel fango Allora Gestione in carico Accetta Poi Facciamo Inizia la traccia Ok E ora Ci andiamo A prendere Ovviamente Il Il rimorchio Perché non abbiamo Ancora sbloccato Il magazzino E per quello Che voglio andare Anche a sbloccare Il magazzino Ok raga Si parte Verso Il Il rimorchio Direi Partiamo Verso il rimorchio E via Qui non si possono Caricare assi di legno Vero Vediamo Se caso mai Si potessero No Mattoni Lastre di cemento Niente Quasi quasi Che magari Si poteva Sarebbe stato Bello Vabbè Peccato Ovviamente Il gioco Deve essere Anche abbastanza Complicato Non può essere Tutto dietro L'angolo No Olè Devo dire che Comunque Nonostante tutto Sto camion Si comporta Sempre Sempre bene Con un po' Di difficoltà Ma ci porta Alla fine Ci porta Dappertutto Alla fine Ci porta Dappertutto Tranne che Probabilmente Di qua Di qua Sarà un po' Un problemino Mettiamo Marcia bassa E Cambio Del differenziale Vediamo Proviamo Ho paura Che non ce la facciamo Raga Sinceramente Parlando Vediamo Piano piano Vediamo Se riusciamo Uh Ci porta via La corrente Raga Ci porta via È fortissima La corrente Muoversi Si sta muovendo Però si muove Verso il basso E quello È il problema Qui c'è l'acqua Sempre più alta Sempre più alta Ok Tiriamo anche un po' Col verricello Giusto Da aiutarci Un po' Dai 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 Ti prego Non impantanarti Non impantanarti No Si aggancia lì Si aggancia lì Raga Ok Ah Ce la farà a tirarci O no Sì Finalmente Qualcuno ce l'ha fatta Ok Via Di nuovo Cambio automatico E iniziamo La strada Qui Ah Attenzione 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 Che botta Ci ho dato Che botta Ci ho dato Oh Nessun punto Disponibile Ah Cavolacci Ci siamo bloccati Ci siamo bloccati Raga No Ci siamo impantanati Raga Ci siamo impantanati Dibi Diving B D Anal B D D D